Il turno di Lega Pro non è stato certamente esaltante per le squadre calabresi, almeno finora. La buona prestazione del Rende ha fruttato un pareggio casalingo contro la Juve Stabia, ma Regina Catanzaro hanno dovuto fare i conti con una nuova sconfitta. Per i giallorossi la quarta consecutiva, mentre per gli Amaranto la terza in quattro gare e sono capo pesanti anche in classifica, se si pensa che le due squadre sono impegnate nella lotta per evitare i play-out. Ma la giornata di campionato non è ancora terminata e da provare a risollevare le sorte della Calabria sportiva ci potrebbe pensare il Cosenza, che nel posticipo di questa sera ospita la capolista Lecce. I pugliesi devono difendere i quattro punti che la separano dalla Catania a seconda forza del torneo, ma i rossolbo di Braglia non possono fare sconti perché in palio ci sono punti preziosi in chiave play-off. Il Cosenza in questo momento è in nona posizione, ma vincendo questa sera si porterebbe a due lunghezze dal Monopoli Ottavo, che ha una partita in più e ha solo i tre punti al terzetto delle quinte, in cui si trova anche il Rende. Una gara quindi da non fallire, ma al tempo stesso la più difficile del campionato, se si pensa alla forza del Lecce. Del resto non si è primi per caso. Del resto non si è primi per caso. Del resto non si è primi per caso.